Ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna Stab Web, apriamo subito la nostra finestra informativa su Marche Abruzzo, cominciamo dal CorriereAdriatico.it, dunque dalle Marche. L'apertura è dedicata alla scomparsa di un tredicenne, fa il bagno e scompare disperso un tredicenne, drammatiche ricerche in mare, ore di angoscia, dunque è accaduto a Civitanova, questa è l'apertura del Corriere Adriatico, poi scendiamo, abbiamo altre notizie di cronaca, Abusi sul figlioletto di 6 anni, mamma accusata di violenza sessuale, giochiotte in famiglia, poi l'emergenza, il fuoco divora un camion, autista terrorizzato riesce a mettersi in salvo, un incidente sul lavoro, si taglia un braccio, è grave, un operaio trasferito a Torrette, l'infortunio sul lavoro, poi si toccano in sorpasso, vuole e cappotta con la 500, sulla 14, un incidente, poi malato e senza il papà, gira senza una meta e dorme sulle panchine, una storia che ci racconta il Corriere Adriatico, poi c'è la notizia della Maxi Rissa al ristorante, è avvenuto a Porto Reganati, i carabinieri hanno arrestato 5 persone, allarme in azienda, i conti correnti nel mirino degli hacker, c'è una truffa informatica. Questa dicevamo l'home page del Corriere Adriatico, trasferiamoci immediatamente nell'Ascolano per leggerci la notizia dell'incidente, dell'infortunio sul lavoro, si taglia un braccio, è grave, un operaio trasferito al Torrette, andiamo a vedere nel dettaglio proprio questa notizia ad Acquasanta Terme, è accaduto un grave infortunio, si è verificato ieri mattina nella frazione di Collefalciano appunto del comune di Acquasanta Terme, un operaio di 56 anni stava eseguendo alcuni lavori per conto della CIP quando per cose imprecisate si è tagliato un braccio perdendo molto sangue sul posto per arrivata un'ambulanza e successivamente l'operario è stato trasferito in eli ambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Restiamo nell'Ascolano, torniamo nell'Ascolano, eccola qui la pagina per leggerci le altre notizie SOS Sicurezza, lei riesce per pochi minuti, ladri entrano, smurano la cassaforte e se ne vanno e poi un'altra notizia di cronaca, un incidente, ragazza investita da un'auto ma rifiuta il ricovero poi scendiamo e leggiamo uno dei casi degli ultimi giorni, uno dei casi accaduti nelle Marche ma soprattutto nell'Ascolano riguarda i profughi libici che non saranno ospitati all'hotel Marche andiamo ad approfondire proprio questa notizia emergenza e immigrazione, l'hotel Marche di Ascoli non sarà utilizzato per l'accoglienza provincia e comune sono impegnate per individuare i donne e soluzioni l'hotel Marche non verrà utilizzato come struttura per l'accoglienza degli immigrati si tratta, affermano congiuntamente il presidente della provincia Paolo d'Erasmo il sindaco di Ascoli Guido Castelli di un'ipotesi che non risulta percorribile per una serie di motivi logistici e funzionali la struttura infatti è sede dell'istituto alberghiero di Ascoli ed è inoltre già ampiamente utilizzata a fini ricettivi e congressuali adiacente infatti nella stessa struttura si trova il centro per l'impiego della provincia che è fruito quotidianamente da una numerosa utenza in base agli indirizzi della prefettura, provincia e comune sono impegnate comunque in maniera sinergica e proficua a individuare le soluzioni più idonee per fare comunque la propria parte nell'ambito delle rispettive competenze ci ricorda il Corriere nella gestione dell'emergenza profughi conciliando tutte le esigenze operative nell'interesse generale della collettività e restiamo nella scolano, torniamo nella home dedicata al Piceno per leggerci le altre notizie il caso Zaggio, in questo caso siamo a San Benedetto contro la condanna, il sindaco ricorre in Cassazione contro la condanna alla Corte dei Conti mi difenderò fino alla fine a costo di arrivare alla Corte di Strasburgo l'aveva detto e l'ha fatto, il sindaco Gasperi ha presentato il ricorso in Cassazione contro la condanna in secondo grado della Corte dei Conti per il caso Zaggio nell'ultimo giorno utile per proporre il ricorso visto che comunque scadevano i sei mesi dall'emissione della sentenza ovvero il 18 novembre del 2014 il primo cittadino ha presentato l'atto alla Cassazione precisamente il ricorso alla Procura Generale presso la Corte dei Conti della sezione di appello di Rome alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Marche l'impugnazione è stata curata dall'avvocato Alfonso Maria Papa Malatesta nella quale appunto il sindaco ripercorre l'iter che lo portò all'incarico assegnato all'architetto Luigi Inazazio nel 2007 la condanna infatti fa riferimento alla nomina dell'Azzazio a direttore dell'ufficio di piano al fine di redigere il PRG e proprio la mancata elaborazione di questo piano che è alla base della condanna dunque del sindaco di San Benedetto precisamente il fatto di avere bocciato e stralciato un piano redatto dal professor Bellagamba per poi assegnare l'incarico all'Azzazio e poi non aver realizzato nulla dunque questa la notizia principale sicuramente sulla riviera ci spostiamo in Abruzzo direttamente apriamo la pagina di ML che si sta caricando e in apertura troviamo una notizia che riguarda la Team ecco quello che avrebbe dovuto fare la Teramo Ambiente per 200.000 euro giardini e scuole in una settimana di interventi delle ditte tornano praticabili dopo la rimozione dell'erbaccia il comune non pagherà andiamo a approfondire proprio questa notizia che è l'apertura di ML la pagina si sta caricando la Team, la Teramo Ambiente ci ha provato ha provato ad incassare 54.000 euro al mese per 4 mesi per un servizio che foto e video alla mano non ha svolto la pulizia delle aree verdi e dei plessi scolastici le segnalazioni che giungevano a macchia di lopardo da parte dei cittadini sembravano problemi isolati ma quando sono state rimesse insieme hanno costituito un puzzle di degrado che hanno sottolineato come il taglio dell'erba la manutenzione dei giardini fossero un ricordo lontano l'intervento dell'assessore però Rudy Di Stefano ha tolto il coperchio di una pentola che bolliva dunque è bastato un giro per il capoluogo e qualche frazione per rendersi conto che i rifiuti cestini pieni e l'erba alta a più di un metro non fossero fisiologici e dell'ultima ora bensì il risultato di disinteresse cronico c'è anche una galleria fotografica appunto nell'articolo che mostra quanto appena letto altre notizie su ML ovviamente quasi tutte riferite al Terramano scuola si chiude prima anticipato infatti al 9 giugno secondo delibera della stessa regione Abruzzo dunque la scuola le scuole a Teramo lo stop dunque delle lezioni per gli asili invece si deciderà a seconda dei casi e poi una notizia di sanità a fianco la ASL di Teramo è la più penalizzata da Abruzzo chi lo dice? l'onorevole il deputato di scelta civica Giulio Cesare Sottanelli che rivendica il ruolo provinciale sopra il luogo poi alle sale parto di Sant'Omero c'è una notizia nella notizia che andiamo subito a sviluppare dunque sanità locale in primo piano ci spiega ML la ASL della Mana è la più penalizzata da Abruzzo questo è quello che dice Sottanelli però da Sant'Omero il sindaco Andrea Luzzi comunica che le sale parto che non sono ancora in funzione dell'ospedale appunto sono state al centro di un sopralluogo da parte della ASL proprio ieri mattina il sindaco ha spiegato che celermente si è inviato il personale sanitario necessario al funzionamento delle stesse sale parto nuove sale parto dell'ospedale Val Vibrata noi proprio su questo ci andiamo a vedere un servizio al via la realizzazione dei nuovi parcheggi presso l'ospedale di Sant'Omero del centro di gestione delle emergenze lo afferma in una nota il sindaco Andrea Luzzi a riprova del fatto che l'ospedale di Sant'Omero è una struttura che lavora a pieno regime con ottimi risultati prenderanno a giorni via i lavori dell'ampliamento dell'area parcheggi al fine di offrire un servizio maggiore all'utenza in costante aumento si costruirà anche un nuovo centro di gestione dell'emergenza dell'ospedale Val Vibrata al fine di migliorare la sicurezza dello stesso presidio tali forme di investimento si legge sono sicuramente un segnale positivo al quale speriamo verrà dato un costante seguito al fine anche di arginare i costi della mobilità passiva verso la regione Marche l'amministrazione di Sant'Omero informa altresì che si è svolto il sopralluogo della commissione della ASL presso le nuove sale parto dell'ospedale di Sant'Omero ottenendo rassicurazioni sul fatto che il liter di apertura sarà rapido abbiamo sollecitato la ASL di Teramo che ha già dato la propria disponibilità prosegue il primo cittadino a provvedere celermente all'invio presso il presidio del necessario personale affinché le nuove sale parto possano iniziare a lavorare presto e a pieno regime restiamo su ML leggiamo le altre notizie si è spenta l'icona della pallavolo teramana ed abruzzese addio a Camillo Pepe il prof creò la scuola di volley a Teramo e tanti campioni è stato sconfitto da un male i funerali ci saranno questa mattina e poi la notizia di Cronaca chiama i carabinieri per denunciare un furto e gli trovano un'arma clandestina la disavventura di un pensionato appunto dalla cassaforte rubati orologi e un'altra pistola dunque una pistola don denunciata e poi la notizia un'altra notizia di Cronaca finisce in cella noto ex gestore di un knight appunto deve scondare una condanna ad oltre 5 anni anche per favoreggiamento della prostituzione poi c'è Mieli Paolo Mieli lo storico Paolo Mieli che parlerà di slam alla sala San Carlo lezione magistrale del giornalista e saggista oggi presidente di RCS Libre nell'incontro appunto organizzato dal comune di Teramo poi un'altra notizia che riguarda Teramo Ratti nel cortile chiude la cucina nella scuola materna della Noelucidi appunto il provvedimento adottato in via precauzionale dall'assessore al ramo all'istruzione Romanelli fino a mercoledì cibi precotti dall'esterno e poi ovviamente si passerà a pulire la scuola poi si parla di tennis per il CT Bernardini sconfitta ad Arezzo con rimpianti le partite condizionate dal vento poi domenica prossima si torna in casa contro Crema poi c'è una notizia che riguarda invece l'emergenza carceri in Abruzzo a Teramo Grifoni a Riberto Grifoni il radicale è ancora al decimo giorno di digiuno con lui anche Di Nanna l'avvocato Vincenzo Di Nanna e Maurizio Acerbo l'ex consigliere regionale che chiedono ovviamente alla regione l'elezione del garante dunque sciopero della fame per tutti e tre queste le notizie principali di ML ci spostiamo su Rivera oggi dunque torniamo velocemente nelle Marche eccola qui che si è aperta la pagina Chef Rubio a San Benedetto per una sfida tra Brodetti questa l'apertura poi si parla di Dragaggio firmato il protocollo d'intesa ma va trovata la ditta andiamo ad approfondire questa notizia che riguarda i lavori di Dragaggio firmato dunque il protocollo d'intesa si è aperto un pop up che andiamo velocemente a chiudere l'intervento si è chiusa la pagina cerchiamo di ripristinare eccola qui Dragaggio dicevamo firmato il protocollo d'intesa ma va trovata la ditta l'intervento prevede la rimozione di 25.000 metri cubi di sabbia ricci fiduciosi a metà venerdì nuovo incontro in comune un paio di aziende si sarebbero già fatte avanti è stato firmato dunque questo benedetto protocollo d'intesa per il lavoro di Dragaggio al porto l'intervento prevede appunto lo spostamento di questi 25.000 metri cubi di sabbia all'incontro in Ancona con il provveditore alle opere pubbliche marittime Lucia Conte hanno partecipato anche il sindaco Gaspari il comandante della capitaneria Sergio Lopresti Gaspari ci ha informato che la firma cessata i soldi sono disponibili dichiarato appunto Pietro Ricci ora si tratta di trovare aziende immediatamente disponibili per l'intervento un paio si sarebbero comunque fatte avanti i lavori costano 300.000 euro ma le operazioni di somma urgenza non consentono un investimento superiore ai 200.000 se non con un allestimento di una procedura differente che allungherebbe di molto i tempi ecco allora che il ministero all'infrastrutture metterà i 200.000 euro per la somma urgenza con l'inserimento successivo del comune che ne garantirà altri 100.000 dunque la partenza è stata finalmente fissata per il 25 maggio ma Ricci ci va con i piedi di piombo siamo fiduciosi a metà venerdì è stato indetto un nuovo incontro in municipio il sindaco ci illustrerà l'intervento bene facciamo una pausa pubblicitaria torniamo tra qualche istante e ripartiamo sempre da Riviera Oggi per leggerci altre notizie del Piceno a Grotta Mare Decibel Grotta Mare installerà rilevatori automatici sui pali della luce l'ambizioso progetto entrerà in funzione già la prossima estata e verrà presentato giovedì prossimo in occasione del convegno Smart City organizzato dal club degli incorreggibili ottimisti rilevatori automatici dunque installati sui pali dell'illuminazione pubblica che monitoreranno i valori dei decibel sul lungomare di Grotta Mare questo progetto arriverà in funzione dunque già la prossima estate si passerà da una metodologia repressiva ad un sistema democratico i dati sonori verranno identificati raccolti e segnalati alla polizia urbana motivo per cui sarà proprio il sindaco di Grotta Mare uno dei relatori dell'appuntamento insieme al dottor Giulio Salvadori del Politecnico di Milano al rettore dell'università di Camerino Flavio Corradini Riccardo Angelini e Tom De Alessandri della Irene Servizio e l'assessore all'innovazione del comune di Parma Giovanni Marani noi restiamo a Grotta Mare ma cambiamo argomento parliamo di ambiente ieri tra l'altro una conferenza stampa si parlava di raccolta differenziata noi c'eravamo abbiamo proprio intervistato il sindaco Enrico Piergallini che ci illustra alcune novità che riguardano appunto la raccolta differenziata Grotta Mare vediamo sta per partire qua Grotta Mare la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata ci vuole spiegare un po' come funzionerà si di fatto è un cambio un upgrade del precedente metodo porta a porta che ha consegnato a Grotta Mare di raggiungere in pochi anni un obiettivo storico il 67% di percentuale differenziato sul totale è un upgrade perché abbiamo scelto un quartiere e le prossime settimane partirà la sperimentazione un quartiere pilota che è Bello Sguardo Sgareglia per provare un nuovo metodo di conferimento dei rifiuti che rimane legato alla filosofia del porta a porta ma darà ai cittadini un nuovo strumento che è il mastello in sostituzione del sacchetto tradizionale mastello che dotato di un chip consentirà alla pace e all'ambiente di poter sapere quando uno conferisce e se soprattutto conferisce bene in base ai giorni predestinati il cambiamento dovrebbe portare diversi benefici due su tutti il primo dovrebbe aumentare il decoro urbano perché naturalmente si sostituiranno i cassonetti con i cestelli con i sacchi che fino ad ora complicavano un po' il decoro della città in secondo luogo avremo la possibilità di poter applicare nei prossimi anni una tariffa puntuale per i cittadini e cioè far pagare di più chi fa peggio la differenziata far pagare meno invece chi è virtuoso e ovviamente la questione generale è la migliore con questo nuovo sistema possiamo superare la barriera del 65% del percentuale differenziato e aspirare a percentuali molto alti tipicamente nord europei che superano il 70% il 75% una sfida che ci interesserà nei prossimi tre anni siamo all'inizio restiamo su rivera oggi per altre notizie di cronaca San Benedetto del Tronto perde il controllo dell'auto e finisce contro il palo il conducente è stato portato per accertamenti all'ospedale scontro stradale ieri pomeriggio dopo le 16 e 30 in via Santa Lucia un anziano per caso ancora ad appurare ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro un palo non sono rimasti coinvolti altri veicoli e persone l'uomo è stato portato per accertamenti all'ospedale cittadino con un'ambulanza le sue condizioni non destano comunque particolari preoccupazioni a occuparsi dei rilievi è stata la polizia municipale di San Benedetto usciamo da rivera oggi torniamo in Abruzzo andiamo ad aprire la pagina di cityrumors.it ecco un'apertura tra le varie di cityrumors torniamo indietro e guardiamoci le aperture dall'inizio dicevamo uno sicuramente l'omicidio greco mercurio nell'acqua a Rocca Morice codici chiede di fare luce ma c'è un'altra che riguarda invece ecco adesso si è aperta la pagina proprio della notizia torniamo nella Omm invece per dicevo leggere questa apertura 35 artisti abruzzesi si schierano contro Ombrina mare con un tributo a Lucio Dalla poi mercurio nell'acqua a Rocca Morice codici chiede appunto di fare luce ed ecco la notizia appunto che riguarda l'apertura principale dell'omicidio di Pescara l'omicidio del pasticcere avvenuto qualche giorno fa appunto il 42enne Giovanni Greco presunto assassino di Gian Domenico Orlando pasticcere di Pescara ha risposto alle domande del GIP Domenico Canosa del sostituto procuratore Rosangela di Stefano e si è appunto difeso in carcere e noi ci andiamo proprio a vedere su questo un servizio vediamo non volevo ucciderlo volevo solo ferirlo quel giorno Orlando mi ha fatto cenno con la mano di avvicinarmi e ci siamo messi a discutere sui rumori generati dal locale ero esasperato da questa situazione è volata qualche parola di troppo e a quel punto ho avuto una sorta di flash ho preso il coltello e ho colpito Orlando alle spalle stava in piedi si è girato ed è andato via non pensavo che potesse morire si è difeso così Giovanni Greco 42 anni a ottobre il buttafuori accusato di aver ucciso il 5 maggio scorso a Pescara il pasticcere Gian Domenico Orlando 67 anni nel suo locale di via Puccini Greco assistito dall'avvocato Paolo Marino è stato interrogato per circa due ore dal PM del tribunale di Pescara Rosangela di Stefano l'interrogatorio si è tenuto nel carcere di Castrogno di Teramo dove il presunto omicidio è rinchiuso da circa due settimane Greco ha inoltre raccontato al PM che dopo aver colpito il pasticcere è andato via con la sua macchina e dopo averla abbandonata ha raggiunto Pineto in taxi Greco ha anche riferito che portava sempre con sé coltello in quanto sarebbe stato minacciato più volte durante la sua attività di buttafuori intanto venerdì scorso il GIP di Pescara Maria Michela di Fine su richiesta del PM di Stefano ha confermato per Greco la custodia catelare in carcere disposta dal GIP di Teramo ad occuparsi dell'indagine è stata la squadra mobile di Pescara mentre i carabinieri hanno rintracciato l'uomo dopo alcune ore dall'omicidio a Pineto restiamo su cityrumors.it per leggerci le altre aperture al Badriatica favoreggiamento della prostituzione ex gestore del Nite condannato a 5 anni si parla del Margot e poi parcheggio a pagamento al Megalosi siamo a Chieti Confcommercio aplaude l'iniziativa del Comune chiede di attuare il progetto chiesto dalla categoria questa è un'altra apertura poi il ministro Pinotti alla donata degli Alpini multe 100 kg di carne sequestrata le altre notizie riguardano Teramo in presa in azione studenti dell'Alessandrini a Roma la fiera regionale Lazio Abruzzo e Umbria l'Istituto Alessandrini di Teramo che partecipa appunto a questa fiera regionale Lazio Abruzzo e Umbria poi a Martinsicuro consegnato il nuovo mezzo per il trasporto di sabili poi si parla della spesa sanitaria e posti letto l'ASL di Teramo secondo Sottanelli già la notizia vista su ML sarebbe appunto la più penalizzata e poi la chiusura si parla anche della chiusura anticipata delle scuole appunto il 9 di giugno andiamo a vedere velocemente anche le altre notizie rimaniamo quindi su City Rumors che si sta aprendo la pagina del Teramano scorriamo velocemente i titoli attivazione a Sant'Omero delle nuove sale parto sopra luogo della commissione ASL appunto di ieri mattina dove va l'Islam Lectio Magistralis di Paolo Mieli a Teramo ma poi si parla dell'IDRAQ del peschereccio sequestrato in Gambia c'è un'interrogazione dell'onorevole Andrea Colletti del Movimento 5 Stelle del deputato abruzzese del Movimento 5 Stelle dunque il caso dell'IDRAQ finisce in Parlamento con questa interrogazione del deputato Colletti poi Pineto e Olgiate Comasco siglano il patto d'amicizia grazie agli Alpini appunto si è chiusa dunque stamani con la firma del patto di amicizia con il comune di Olgiato Comasco la quattro giorni che Pineto ha dedicato agli Alpini in occasione dell'ottantottesima adunata nazionale restiamo a Sant'Omero giunta pianifica colonie e soggiorno anziani dunque ripartono le colonie marine per ragazzi e anziani nel comune di Sant'Omero e passiamo a un'altra notizia anzi passiamo direttamente all'Ansa Marche torniamo nelle Marche andiamoci a vedere l'apertura dell'Ansa Marche eccola qui si parla di rifugiati questo è il primo piano dunque si parla di migrazione a Pesaro rifugiati faranno volontariato i migranti ospitati a Pesaro che hanno chiesto la protezione internazionale potranno svolgere attività di volontariato un accordo in questo senso è stato firmato in prefettura dal comune dalla provincia e dalle associazioni di volontariato e dai sindacati da dire che questo genere di accordo era stato già firmato un mesetto orsono anche dal comune di Monte Prandone dal sindaco Stefano Stracci dunque e poi sciopero medici in taglio basso agli esi precettati dal prefetto in vista dello sciopero nazionale dei medici indetto dalla FIMG per il 19 maggio il prefetto di Ancona Raffaele Cannizzaro ha precettato il personale medico in servizio di continuità assistenziale agli esi e poi una notizia di cronaca falsi tirocini immigrati arrestato un consulente del lavoro aveva procurato tirocini di lavoro fantasma che hanno consentito poi l'ingresso illegale in Italia di centinaia di bengalesi poi un'altra notizia di cronaca anzi un paio di notizie di cronaca velocemente spacciava vicino ospedale arrestato i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pesaro hanno arrestato un 46enne che spacciava cocaina nei pressi dell'ospedale e poi un'altra notizia che riguarda gli alpini un alpino che aveva perso 450 euro giovani li trovano e li consegnano alla polizia l'uomo tornava dall'adunata dell'Aquila la disavventura ha lieto fine per un alpino bergamasco di 49 anni che proprio reduce dall'adunata degli alpini all'Aquila ha visitato il centro storico di Ancona mentre aspettava un treno per tornare a casa e ha perso il portafoglio con 450 euro i documenti in corso Matteotti due ragazzi però ancora i tali di 25 anni lo hanno ritrovato e consegnato all'equipaggio di una volante che poi lo ha restituito al legittimo proprietario e passiamo in Abruzzo dunque apriamo la pagina del Lanza Abruzzo eccola qui il primo piano dedicato a Ombrina Mare video artisti abruzzesi contro le trivelle come profondo il mare per dire no a Ombrina come profondo il mare rivisitato da 35 artisti abruzzesi diventa l'inno del no alla piattaforma di Ombrina Mare e alla deriva petrolifera in vista della manifestazione che si terrà proprio questo sabato sabato 23 maggio a Lanciano questo era il primo piano del Lanza e poi in taglio basso la cronaca con Greco che è davanti al pubblico ministero tutto per una frase di troppo iniziato tutto con una discussione avrebbe dichiarato c'è stata una frase di troppo io non ci ho visto più ma non volevo uccidere lo ha detto al PM appunto Raffaele Greco accusato dell'omicidio del pasticciere Gian Domenico Orlando avvenuto il 6 maggio scorso poi si parla i trabocchi in bike la serie televisiva la nuova serie televisiva data dall'associazione culturale talenti e territori dedicata al progetto di pista ciclopedonale lungo la via verde costa dei trabocchi è presentata proprio ieri in regione dall'assessore al ramo Dino Pepe bene questa era la nostra ultima notizia noi vi ringraziamo per l'attenzione vi diamo appuntamento domani puntuali alle 7 per la rassegna stampa web arrivederci ciao